Con l'annullamento del question time avvenuto in consiglio comunale lo scorso 21 ottobre, dopo il consigliere Caccamo, anche il consigliere della Lega, Gisella Botticchio, interroga il comune con una serie di interrogazioni che verranno discusse nel prossimo consiglio comunale, fra queste l'ospedale civile di Agropoli. Il problema ospedale che sta lì, fermo dal 2013 che è stato soppresso l'ospedale di Agropoli, ma andiamo anche a ritroso. Il 2013 è stato chiuso, ma le problematiche partono già dal 2008 con il decreto 16, poi il 2010 con il decreto 49 firmato da Bassolino e poi Caldoro. Perché io la dico tutta, la politica dalla destra alla sinistra devono assumersi le proprie responsabilità, Raffaella. Quindi il decreto 49 poi ha iniziato un iter dove Caldoro il 2013 ha dato il colpo di grazia. Quindi oggi l'ospedale di Agropoli, io sono andata parecchie sere, vado lì, vado a guardare, e rappresenta il nulla. Ci stanno questi stanzioni grandi con qualche infermiere o un medico, ma di sostanza non c'è nulla. Il 2018 è passato un piano ospedaliero dove Agropoli ha perso l'opportunità, non ha prodotto nulla, non ha chiesto nulla, non ha protocollato nulla in regione. Cioè come si fa un piano ospedaliero e noi diventiamo, poi si scopre, dopo un anno che siamo la stampellina di Vallo. Cioè noi siamo accorpati a Vallo. Oggi loro stanno prospettando questa sala operatoria che verrà attrezzata per fine anno, hanno speso 509 mila euro, per somministrare la caramella ad aprile-maggio. Dopo 5 anni, il 2015, tagliarono un nastro, venne di Luca qua in Pompamagna, in festeggiamenti a tutto andare, hanno preso parecchi voti. C'è stato un consigliere regionale che ha preso quasi 3000 voti, poi sono spariti, ci hanno dato questo piccolo pass out, non so cos'è, mettono delle targhe lì, poi vai lì dentro dopo le 8 la sera, c'è il nulla. Cioè ti dicono se hai preso una botta, dice mettiti il laso Nilo oppure vai a Vallo. Quindi non c'è nulla. Loro hanno cercato di prendere voti. Il problema è la posizione di un politico. Il politico vuole la poltrona per sé o vuole i diritti del cittadino? Dipende che sceglie. Ha sottoscritto il consigliere comunale, ha scelto i diritti dei cittadini. Quindi non gli interessano le poltrone che interessano a loro.